Ringrazio i relatori Ellis e Greg, saluto la signora Commissaria e tutti i colleghi e farò due brevissime considerazioni. La prima, ricordando ciò che ha detto l'onorevole Ghicà, chi voleva una prova della inadeguatezza delle prospettive finanziarie 2007-2013 è servito. Il primo bilancio del nuovo quadro finanziario dimostra chiaramente che la coperta è troppo stretta. Il relatore ha fatto i salti mortali, alcuni giustamente corretti dai gruppi politici, ma nulla ha potuto fare di fronte ai limiti angusti del quadro finanziario poliennale. Dopo questa prova, che è la prima prova, dovrebbe essere evidente anche a chi sostiene che l'1% del regno nazionale lordo basti ad alimentare il bilancio comunitario, che occorre invece una svolta, una revisione in metà periodo. Dico al Parlamento, iniziamo da oggi a preparare questa sfida. La seconda riflessione sarà telegrafica. L'onorevole Ellis ha proposto una operazione di controllo della spesa. Ha fatto bene, noi l'abbiamo sostenuta e accolta. È giusto dare la massima trasparenza, ma è giusto anche non compromettere le politiche fondamentali dell'Unione Europea. Grazie. Grazie.